Sono Matteo Luraschi e in azienda mi occupo di seguire tutta la programmazione della produzione e la qualità produttiva. Siamo alla serie di SRL, Papar l'ha fondata nel 1975 partendo come terzista lentamente negli anni, sviluppandola e diventando verticale, proponendo al cliente dei nostri disegni oppure sviluppando direttamente le loro idee. Sono Federica Luraschi e insieme ai miei fratelli portiamo avanti l'azienda familiare fondata da nostro padre. In azienda mi occupo principalmente dello sviluppo prodotto e di seguire quindi la stampa dei tessuti dalla nascita cioè dallo sviluppo del disegno fino a quando la merce arriva al cliente finale. Sia io che i miei fratelli siamo possiamo dire nati e cresciuti in questa azienda quindi sin da piccoli abbiamo vissuto questa realtà. In principio era ovviamente un gioco ma questo ci ha portati poi ad appassionarci a questo mondo di tessuti e di stampe e nel tempo la nostra presenza ha favorito anche un passaggio di innovazione dalla stampa tradizionale alla stampa digitale e la voglia di non smettere di investire in nuove tecnologie. Abbiamo scelto MCS perché siamo passati da una linea di lavaggio discontinua a una linea di lavaggio continua formata da una lava print con una parte in largo e una parte in corda che ci ha permesso di aumentare la produttività di lavare tutte le nostre tipologie di tessuti e cosa molto importante risparmiare il consumo energetico e di acqua e prodotti chimici ridotto più del 50 per cento rispetto al lavaggio tradizionale. Per concludere la nostra ambizione è quella di proseguire negli anni portando avanti la passione che era di nostro padre ed è diventata nostra e di poterla riuscire a trasferire nel migliore dei modi anche alla prossima generazione che sta crescendo e quindi di introdurla in azienda e di appassionarli a questo mondo spesso frenetico ma sicuramente appassionante.